Proseguono i controlli sul territorio da parte del gruppo Carabinieri di Locri con il supporto dei colleghi dello squadrone li portato Carabinieri di Vibo Valencia, al fine di reprimere reati attinenti ad armi e stupefacenti. Anche ieri i militari dell'arma sono stati impiegati in una mirata strategia operativa di aggressione e sodalizi mafiosi. In tale ambito sono stati eseguiti controlli e perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di pregiudicati inseriti nelle locali cosche di Indrangheta, nonché rastrellamenti in aree sensibili con particolare attenzione alla zona della vallata, dell'allaro e del torbido. All'esito di tale attività personale delle compagnie di roccellaioniche e locri hanno tratto in arresto bombardieri Natale, 48enne di placanica, poiché nel corso di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto, occultato tra la vegetazione e sul retro della propria abitazione, un barattolo contenente oltre 50 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana e numerosi munizioni di vario calibro. Bombardieri Giovanni, 36enne, anche gli di placanica, poiché a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso del seguente materiale rinvenuto nelle pertinenze della casa. Una carabina di libera vendita marca Universal 80, la cui canno originario è stata sostituita da un'altra, priva di matricola. Un fucile monocanna, privo di matricola, il cui congegno di sparo e canno originali sono stati sostituiti da parti di arma comune da sparo. 4 congegni di sparo, 70 cartucce per fuggile di vario calibro e un chilo e mezzo di polvere da sparo.